ciao amici di luce natura anche quest'oggi continuiamo a fare altre recensioni di motosega visto che ci troviamo nel periodo invernale quest'oggi vi faccio vedere un altro gioiellino di motosega sempre mia acquistata da me è una shindaiwa 451s comprata un paio di anni fa è un'altra motosega in questo caso non è una forestale pura l'altra volta vi ho fatto vedere l'activa 62.62 e chi non l'ha visto il video sulla recensione dell'activa la prova e anche la comparazione con la 5656 io ve li lascio qui in alto per quanto riguarda questa shindaiwa chi non lo sa shindaiwa è un po come eco diciamo che entrambi i marchi yamabiko quindi stiamo parlando di altri due marchi professionali ha un motore da 45cc che è capace di sviluppare 2,3 kilowatt 2,3 kilowatt che sarebbero circa 3 cavalli questo giusto per intenderci nella configurazione in cui ce l'ho io in cui l'ho scelta quando l'ho comprata è da 38 centimetri di barra 38 di barra perché secondo me per questa motorizzazione 38 centimetri è l'ideale e monta una catena da 64 maglie a 3,25 che in questo caso io sono andato a montare una catena in metallo duro quindi carburo di tungsteno e cobalto una catena in vidiam questa motosega perché ci voglio fare una recensione anche qui perché secondo me se la merita non ha la forza di altre motoseghe però quello che mi piace di questa motosega è intanto diciamo la praticità la leggerezza non tanto perché è una motosega un po pesantina anche questa nel senso che stiamo su 5 kg a secco che poi mettendoci carburante la miscela l'olio la balla la catena la barra anche qui stiamo sui 6 kg più o meno diciamo la spesa è quello che non è tantissimo è comunque una motosega leggera rispetto alle motoseghe del passato però non è certo una motosega come quelle da potatura ultraleggere che si vedono oramai in giro è una motosega che all'occorrenza fa l'abbattimento e all'occorrenza può fare anche la potatura ovviamente quali sono i punti forti di questa motosega che io adoro è il bocchettone largo sia per il rabbocco del carburante della miscela che dell'olio il sistema anti vibrazioni anche questo è un sistema su varie molle che smorza tantissimo le vibrazioni la doppia impugnatura è classica col freno catena davanti quello che non adoro è il rampone il rampone un po piccolino a tre denti sopra diciamo un accenno sotto magari ecco su su altre motoseghe ve lo voglio far vedere un attimo guardate ce l'ho qua esudiamo un attimo voglio solo far vedere la differenza se prendiamo un active 62.62 sono 5 denti quindi un bel rampone non è diciamo sono piccoli particolari però adesso non è che sto facendo un video comparativo sono tutte grandi motoseghe cerco solo di fare un video per chi dovesse acquistare questa motosega che cosa me ne pare che cosa ne penso sono un paio d'anni che la sto utilizzando non giornalmente tutto l'inverno saltuariamente però diciamo che l'ho utilizzata abbastanza in maniera abbastanza gravosa allora è una motosega essenzialmente un po pesantina per uno che non è un professionista però allo stesso tempo abbastanza equilibrata può essere usata sia per lavori forestali che per lavori di sramatura per lavori di potatura più o meno grandi non la prenderei per un lavoro proprio di potatura puro perché sulla potatura ci sono quelle motoseghe un po più piccoline che hanno le bare da 35 che sono tipiche sia con le bare da 35 con le bare da 25 magari quelle un po più obbistiche che sono proprio tipiche da potatura e hanno la capacità di impugnatura con la singola mano comunque in equilibrio detto questo amici posso dire che anche questo è un gran motore che non mi ha lasciato a piedi mai negli ultimi due anni si accende sempre con estrema facilità non ha un decompressore esterno come magari l'altra che vi ho fatto vedere prima l'active però è anche l'avvio di questa motosega è abbastanza semplice io tolgo un attimo il freno catena ve lo faccio vedere tiriamo l'aria facciamo ok come vedete anche questo è un bel motore una bella catena una bella motosega se qualcuno sta pensando a una shindai o a 451 s come questa 452 posso dire che è una bella motosega ovviamente come tutti gli attrezzi professionali ci vuole un minimo di manutenzione di mantenerla sempre in ordine anche quando c'è il fatto di rimetterla a posto conviene proprio eliminare l'olio l'olio della catena andare a mettere un po di olio per la miscela e farla girare con un po d'olio miscela poi svuotare il serbatoio della benzina cacciare la candela mettere un po d'olio miscela nella candela infilarla dentro nel motore far fare un paio di giri con la manovella quindi portare a lubrificare bene tutto rimettere la candela e riporre diciamo quindi con serbatoio vuoto sia miscela che olio e con il motore bello lubrificato detto questo la catena facendola girare un po con l'olio sempre della miscela riusciamo a evitare che la catena si incolli perché se noi lo lasciamo con l'olio catena poi dopo quando andiamo a riprendere è sempre un po incollata ovviamente quello che mi piace tanto anche che mi ha fatto scegliere questa motosega è il colore rosso perché il rosso vivo lo trovo proprio un colore che per anche in ambito forestale magari quando ci ricresce un po d'erba il giardino è un bel colore amici anche questo video su un'altra motosega professionale termina qui io spero che vi sia piaciuto mi raccomando se vi è piaciuto mettete un bel like condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale e non perdetevi i miei prossimi video ah un'ultima cosa sulla shindaiwa visto che stiamo parlando di motosega e shindaiwa io posso fare anche una recensione sul tagliasiepi però adesso diciamo siamo ancora in pieno inverno magari a primavera perché io ho anche uno shindaiwa 262 hd che è veramente hd sta per i vidiuti lavori pesanti e quindi anche questo però inutile che vi faccia una recensione adesso magari ce lo vediamo a primavera se ho tempo però era solo per dirvi che è un po che uso queste attrezzature e mi sono trovato bene un'ultima cosa che ci tengo a dirla in questo anche in questo video è che rende particolare il nostro canale rispetto a tutti gli altri io faccio sia potature gli ortaggi l'orto gli alberi da frutto ma anche test di attrezzature tutte le attrezzature che vedete testate sul nostro canale sono mie personali cioè io le compro le compro le testo le uso ci lavoro e poi quando si rovinano comunque questo è il succo era solo per dirvi che non sono un venditore mi piace usarle e comprarle quindi già che le compro ci faccio i testi ci faccio i video video i pregi e i difetti insomma cerco di fare il punto della situazione amici mi raccomando se questo video vi è piaciuto mettete un bel like condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale e non perdetevi i miei prossimi video io come al solito vi ringrazio per l'attenzione noi ci rivedremo presto un saluto e un abbraccio di cuore